Buonasera, siamo qui alla Villa Comunale con Pietro Quartarone, Mauro Italia e Mimmo Terranova, rispettivamente Presidente, Segretario e Tesoriere di Teatro in Movimento. Allora, signor Pietro... Posso fare un appunto? Sì? Manca il Vice Presidente Patrizia Gula. La salutiamo? Certo che la dobbiamo salutare, perché non siamo solamente noi, siamo in quattro ed è giusto che non essendoci noi dobbiamo menzionare anche il Vice Presidente, che è Patrizia Gula. Quindi un saluto a Patrizia. Un caloroso saluto a Patrizia, che verrà in seguito, verrà, ma in questo momento non è qua. Signor Pietro, perché è nato Teatro in Movimento? Allora, Teatro in Movimento, io ti dico, posso chiederti del tuo? Certo. Allora, ti dico questo, noi eravamo quattro amici al bar. Come noi quattro qui. Come noi quattro qui, precisamente. E siccome eravamo stanchi di, si può dire, cozzare sempre... E allora abbiamo pensato di creare un gruppo, un consorzio, per essere di più e per non rimbalzare ogni qualvolta andavamo a cercare qualcosa. Siete stati furbi, vi siete coalizzati. Brava, l'unione fa la forza. E allora che cosa abbiamo fatto? Allora che cosa facciamo? Facciamo non un'associazione, ma un consorzio di associazioni culturali. Perché già come la parola consorzio è già qualche cosa. È già positiva e propositiva. È già positiva e propositiva. A questo punto ci siamo seduti noi quattro e abbiamo messo giù le nostre idee buone, sbagliate, giuste, criticate, non criticate e siamo andati avanti. Quindi il bello è che noi quattro siamo stati fondatori, però vogliamo e volevamo che all'interno di questo gruppo, di questo consorzio, venissero anche tutti e tutte le associazioni culturali di Augusta, che non sono solamente associazioni culturali teatrali, attenzione, perché Teatro in Movimento si occupa di teatro, ma non solo di teatro, perché noi abbiamo fatto un laboratorio teatrale, abbiamo fatto una mostra di fotografie, abbiamo fatto diversi incontri culturali con altre persone, con altri gruppi. Di conseguenza noi non vogliamo fare solo teatro, ma vogliamo creare un movimento nel teatro, nella cultura di Augusta. Che comprenda le diverse forme d'arte. Brava. Però ad Augusta, io non vorrei essere polemico in questo momento, ad Augusta da un paio d'anni non abbiamo dove andare a cozzare per poter recitare. E allora noi, magari poi lo dirà qualcuno, abbiamo pensato di fare un pochettino il passo più lungo della nostra gamba. Siamo andati a cercare un teatro accettato alla notte e l'anno scorso abbiamo fatto la prima rassegna di teatro amatoriale accettata alla nostra. Non ci anticipi tutto lei? No, e appunto dicevo, magari più in lato... Io adesso voglio fare una domanda al signor Mimmo. Signor Mimmo, io non le chiederò quanto avete in cassa in questo momento, eh? Piuttosto, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi mi sa che li ha tutti espletati il nostro presidente Pietro Quartarone, che è stato abbastanza chiaro. Eloquente? Il nostro sogno sarebbe proprio quello di ampliare la nostra associazione con altre attività, altre compagnie teatrali che ci fanno creare più forza in questo movimento ed essere un gruppo più unito in questo paese che, invece di essere screpolati, di unirci tutti quanti assieme. L'unione fa la forza, torniamo a dire. Dulcis in fundo, Mauro Italia, quali sono i progetti che avete avuto e quali i progetti futuri? Teatro in Movimento nasce nel 2012 ed è nato alla grande, io oserei dire, mi permetto di dire, perché grande era l'idea della realizzazione appunto di questo consorzio. Quando poi, come diceva Pietro, c'è l'unione, c'è la forza e si riesce a fare di più. Abbiamo inaugurato il consorzio nei locali del Palazzo Comunale con un ospite d'eccezione che ha fatto da padrino a Teatro di Movimento, che è appunto Duccio Musumeci, per noi un'icona del teatro siciliano e quindi contentissimi. I progetti realizzati sono stati corsi, già come anticipato, abbiamo fatto una prima rassegna teatrale di prova al Teatro Comunale, è andata benissimo, e poi la rassegna del 2012 a Città della Notte. Abbiamo realizzato dei corsi e dei laboratori di teatro, delle mostre fotografiche, abbiamo fatto dei conviviali molto belli che ci hanno permesso di unirci in sinergia con tutti gli altri soci di Teatro in Movimento, perché bisogna anche dirlo, Teatro in Movimento in questo momento conta più di 100 soci, quindi un grande movimento. Adesso è importante sottolineare che è in corso la campagna abbonamenti della nuova rassegna per il 2014 e 2015 a Città della Notte, con quattro lavori teatrali realizzati dalle quattro compagnie. Voglio per concludere ricordare quelli che sono i componenti ideatori di questo movimento, che sono il Teatro Stabile di Augusta, l'Allegra Brigata, l'Associazione Trinacria e il re di cuore, appunto Patrizia Gula, che è la regista e presidente. Mauro Italia, ti vedo qui con la maglietta rossa di sciortini. E mi hanno criticato, Tony Di Silvestro ha detto che il rosso non mi dona, ma siccome io sono bello e presuntuoso, metto il rosso ugualmente. E poi io, siccome sono donna, posso dire che invece stai benissimo. E il tuo parere vale molto di più di quello di Tony Di Silvestro. In un aggettivo solo, com'è Sciortini? Sciortini è meraviglioso, Sciortini è un'idea eccezionale. E il fatto che proietti la nostra città a livello internazionale, grazie all'aiuto dei corti, fa per me, che è risaputo, sono innamorato della nostra città, diventa anche Sciortini un'icona che ci rappresenta non solo in Italia, ma anche nel mondo, perché so che a Sciortini partecipano corti provenienti da tutto il mondo. Quindi viva Sciortini, viva Augusta e viva Teatro in Movimento. Grazie.